Lo sposto! Avete pepiassi in arrivo! Movimento! Mi sposto Bombardamento di precisione nemico Al riparo Vado Ok, pronti a muoversi Gatti d'arrivo, nuova zona sicura contrassegnata Tutto a costo, te la caverai Avete del gas in arrivo Dobbiamo portarci nella zona sicura Ne rimangono cifre, concentrati Regalò un bersaglio Stato nemico Ostile a terra Qui c'è un bersaglio Gassi in movimento Nuova zona sicura in scuola Gassi in avvicinamento Ok, ok Mi colpiscono Barsaglio in movimento Ben fatto Barsaglio Grazie a tutti.